Il candidato del Partito Democratico alla presidenza della provincia di Salerno è Vincenzo Napoli. La scelta sembra ormai definita anche alla luce del via libera ottenuto dalle amministrazioni legate ai democratici dell'agronocerino sarnese. Ieri il segretario provinciale del partito, Vincenzo Luciano, ha incontrato i sindaci interessati, tra cui anche Maglio Torquato, ricevendo il via libera. Ieri mattina però era circolato di nuovo il nome del sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli. Tra l'altro, a margine della conferenza dei servizi, che si è tenuta nel municipio metellano, Torquato aveva detto che se Servalli non smentiva il suo interessamento alla candidatura, lo avrebbe appoggiato perché è un'ottima persona. La risposta di Servalli ha poi sciolto ogni dubbio. Il sindaco Torquato ha detto che è una persona affettuosa ed ha proposto questa candidatura per la stima che ha per me, non per una valutazione politica generale. Il compito di proporre il candidato presidente, ha continuato Servalli, spetta al segretario provinciale del partito. Essendo infatti elezioni squisitamente politiche che non prevedono c'è alcuna consultazione popolare, come è successo con Canfora, sono proprio i partiti a fare nome. Essendo di vecchia scuola, ha concluso Servalli, nella vecchia politica si veniva chiamati esattamente come è capitato a me, quando sono stato segretario cittadino, poi consigliere, assessore, e ora sindaco. Nel dibattito è intervenuto il consigliere comunale Pasquale D'Acunzi, che ha commentato, ottima la risposta di Servalli, è una lezione di politica.